Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale, oggi parliamo di Edoardo Donna Maria alias Droiette che ha cantato il Pizza Village di Napoli, ma il web non per nulla, ma con quale coraggio? A distanza di un anno, sono da solo sul palco perché è arrivato un momento speciale, lui è uno di noi, lo conosciamo? L'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornato a esibirsi con il suo ultimo singolo sbadato, nonostante l'entusiasmo la performance di Edoardo non ha convinto tutti. Molti utenti sui social non hanno risparmiato critiche, mamma mia ma con quale coraggio lo fanno cantare? Ha scritto qualcuno, altri hanno aggiunto a molto coraggio non c'è che dire, la gente che pensa a tutt'altro mentre lui canta mi spezza, Bah, io lo trovo incapace, la gente che si complimente esattamente che gusti ha? Con tutto il bene che gli auguro, anche no, mi stanno sanguinando le orecchie, è inascoltabile. Ma non sono mancate le opinioni positive, Droiette, top, tante persone per te e tu tanto emozionato, ma sei andato alla grande, segui i tuoi obiettivi, hai spaccato, bravo Droiette. Grande Droiette e complimenti per averci regalato questo nuovo brano, un altro pezzo della tua bella anima, esibizione straordinaria, hai cantato con tanta passione. E voi cosa ne pensate? Quali sono state le vostre sensazioni? Fatecelo sapere nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati con tutte le novità. Grazie e a presto!